E riprendiamo la linea da Imola per questo bel compleanno, i 130 anni della cooperativa Ortolani-Cofri, 130 anni in cui i cambiamenti in agricoltura sono davvero stati epocali e oggi naturalmente una parola importante la dice la meccanizzazione agricola rappresentata dalle trattrici qui nel piazzale ma anche dai nuovi sistemi di lavorazione che si trovano all'interno della cooperativa. Tornando proprio al settore ortofrutta, più di un terzo degli europei sopra i 15 anni non mangia però nemmeno un frutto o verdura al giorno. L'Italia è fra i paesi europei dove se ne mangia di più, però non guidiamo la classifica. A questo ci pensano il Belgio, il Portogallo, il Regno Unito e anche la Danimarca che è bravissima nel consumo di 5 porzioni al giorno come suggerisce l'OMS. Una curiosità prima di addentrarci ulteriormente in questa bella festa di compleanno. Esiste una relazione tra livello di istruzione e dieta alimentare? Pare di sì. C'è una ricerca di Eurostat che dice che gli stati membri consumano una percentuale maggiore di frutta e verdura dove la cultura è più elevata, quindi dove c'è un livello di istruzione più alto. Forse anche questo è uno dei cambiamenti. Un tempo frutta e verdura erano su tutte le tavole, oggi c'è una selezione più accurata e per questo anche le strategie di mercato si stanno facendo molto diversificate. Ortofrutta, bandiera nazionale, emblema regionale per quello che riguarda l'Emilia-Romagna, il 25% del PIL agricolo, ma i numeri hanno bisogno anche di sostanza e debbono vivere e cavalcare quello che è il cambiamento. Dennis Calanca, sicurezza alimentare e politiche economiche per Coldiretti Emilia-Romagna. Crisi che hai, strategia che trovi, lei ha detto, quindi la strategia c'è? La strategia ci deve essere perché comunque stiamo affrontando un anno catastrofico che viene dopo diversi anni estremamente difficile per il settore ortofrutticolo. Noi dobbiamo vedere che cosa poter fare nei prossimi anni, abbiamo delle idee chiare, bisogna puntare sicuramente sulla qualità del prodotto e sugli accordi di filiere che valorizzano il prodotto agricolo, soprattutto di origine italiana. L'Emilia-Romagna è il settore trainante per l'agroalimentare perché comunque qui abbiamo delle produzioni importantissime che non possiamo dimenticare e non dobbiamo tralasciare. Parliamo delle pere, parliamo delle pesche, parliamo delle nettarine, parliamo delle albicocche. Sicuramente in questo momento stiamo riscontrando una contrazione da parte dei consumi dei consumatori perché comunque è un po' complice la crisi che stiamo vivendo a livello economico, un po' complice comunque i prezzi che in qualche modo potrebbero essere leggermente diversi rispetto a quelli degli anni scorsi, il consumatore sta acquistando meno. L'inflazione sul settore ortofruttico è circa del 14% che è comunque meno alta rispetto da altri settori. Gli italiani comunque stanno tagliando ma sicuramente gli italiani cercano ancora un prodotto di qualità. La ricchezza dell'agricoltura è la ricchezza anche del paese però negli ultimi decenni si è assistito ad un fenomeno non incoraggiante, meno 30.000 ettari negli ultimi vent'anni. Eventi climatici, costi in crescita, insomma i fattori critici sono tanti ma nell'analisi del professor Carlo Pirazzoli, economia e gestione dell'azienda agraria e agroindustriale dell'Università di Bologna, oltre all'analisi di pesche, nettarine, albicocche, kiwi, andamenti di produzione, andamenti di mercato, costi, consumi, si scorgono anche alcune strategie possibili per modificare un attimo l'atteggiamento di produzione e mercato per riuscire a sfondare e a mantenere le nostre quote. Credo nella formazione degli imprenditori che deve essere migliorata, una formazione continua in modo tale che l'innovazione che comunque ci sono possa essere adottata velocemente. L'altro aspetto è il discorso del credito perché per fare innovazione occorrono dei soldi e soldi fitti in frutticoltura, abbiamo detto no, occorrono un 50.000 euro per ettaro perché dobbiamo fare degli impianti moderni, degli impianti certificati, degli impianti con l'origazione, con gli impianti con le rite antigrandine, col fotovoltaico sopra, con i droni, tutte cose bellissime, utili ma molto costose. Però questo ci consente di produrre una migliore qualità perché è l'unica speranza che noi abbiamo perché non possiamo competere con l'Italia del Sud, non possiamo competere con la Spagna, non possiamo competere con la Grecia, con gli altri competitor che hanno dei costi più bassi. Noi dobbiamo rivolgersi a consumatori più ricchi. Anche in Italia ci sono, ci sono dei canali più remunerativi e dobbiamo perseguire anche quelli. All'estero dobbiamo andare nei paesi dove pagano di più e ci sono e questo è il nostro target per il futuro. Pesche, nettarine, albicocche, pere, questi sono un pochino i fari della frutticoltura emiliano-romagnola eppure sono diventati settori critici. Ma cos'è capitato in questo periodo? Perché succedesse tutto ciò? Per pesche e nettarine abbiamo detto già c'è la competizione dei grandi paesi europei e noi 30 anni fa, 40 anni fa eravamo, non dico solo, ma quasi e quindi eravamo protagonisti assoluti e oggi non lo siamo più per quel motivo che abbiamo detto. Con delle pere ci sono tanti dei problemi sanitari molto, molto pesanti e poi c'è il fatto che la pera è un frutto difficile da mangiare. Io quando vado a comprare la pera sono tutte dure come un sasso e devo aspettare una settimana o 15 giorni, poi magari mi dimentico, ecco questo discorso che faccio io credo che lo facciano in tanti, però una volta che io prendo una pera con maturazione giusta, corretta, è squisita. Ecco, innovazione e sapore, quindi potrebbero essere il tandem della frutticoltura che sbanca. Altra cosa sono l'innovazione del prodotto, le pesche piatte, le abbiamo inventate noi e il kiwi giallo non l'abbiamo inventato noi, il kiwi rosso non l'abbiamo inventato noi cioè dobbiamo seguire e dobbiamo essere noi protagonisti più che seguire sempre a ruota ultimamente abbiamo seguito un po' troppo a ruota. Oggi ho scoperto tra l'altro che anche il fragolone tipico della frutticoltura imolese non l'abbiamo inventato noi ma qualcuno lo portò da Parigi. Sì, Madame Motou mi sembra di ricordare che fosse una varietà. Ci manca un po' l'innovazione vera nostra e questo andrebbe in qualche modo rinforzata ma sappiamo che è un po' difficile perché è un colone di grandi risorse. Però l'augurio è quello di ritrovarci almeno con un'albicocca IGP perché anche qui gli espianti sono stati tanti. Davide Vernocchi, presidente di Apo Conerpo, una realtà che rappresenta uno degli elementi chiave anche per il futuro dell'ortofruticoltura, l'aggregazione, l'unità, lo stare insieme. Sì, è una cooperativa questa storica del nostro gruppo Apo Conerpo, cooperativa, un modello imprenditoriale io credo quanto mai attuale e moderno, soprattutto alla luce dei cambiamenti che l'ortofrutta deve fare per continuare a essere vitale e dare quelle risposte alle imprese agricole di cui hanno tanto bisogno. Complice un cambiamento climatico molto difficile da gestire ma anche un quadro normativo comunitario nazionale che spesso non è attento agli effettivi bisogni e necessità delle aziende agricole. Ed è per questo il motivo per cui Apo Conerpo si sta ponendo, si è sempre posto per la verità, accanto alle sue cooperative, proprio per essere elemento di stimolo ad anticipare questi cambiamenti, proprio per renderli il più possibili remunerativi per il prodotto dei propri soci, in una sfida molto complicata che è legata alla globalizzazione anche dal punto di vista commerciale. Giorgio Grenzi, presidente del Consorzio Agrario di Parma, però una storia che comunque si lega a questa realtà imolese e anzi andiamo molto indietro nel tempo. Tantissimo, tantissimo perché oltre mezzo secolo fa io sono venuto da Modena, il comune mio è non Antola, a studiare qui a Imola e quindi per me è una seconda città, ero un ragazzo, parliamo degli anni 1969-68 e sono venuto a visitare questa cooperativa. Poi guarda caso, ironia della sorte, noi quest'anno come Consorzio Agrario di Parma abbiamo compiuto anche noi 14 gennaio 130 anni, quindi nasciamo nel 1893 come questa cooperativa, sono venuto per fare gli auguri, 130 anni aveva lei questa cooperativa, 130 anni abbiamo noi come Consorzio Agrario di Parma. E con il reglio della torta dei 130 anni di Ortolani Cofri, società cooperativa agricola dal 1983, si chiude questo nostro reportage dal mondo ortofrutticolo.